Bentornati. Oggi parleremo di Herbert Marius. Si tratta di un esponente della scuola di Francoforte le cui tesi rappresentano una originale sintesi tra le istanze del marxismo e le istanze del freudismo. Ora, alla base del testo del 1955 intitolato Eros e civiltà, Marius ritiene che la civiltà occidentale abbia potuto svilupparsi solamente attraverso la repressione degli istinti. E in particolar modo sacrificando la ricerca del piacere che sarebbe caratteristica basale, caratteristica avissale, come sosteneva lo stesso Freud, della vita dell'essere umano, della vita del singolo essere umano, della vita di ciascuno di noi. Tuttavia, Marius ritiene che questa repressione degli istinti non sia una caratteristica strutturale della società in quanto tale, ma della nostra attuale occidentale borghese società moderna, ovvero di un tipo di società che ha finito con il massimizzare le occasioni produttive in luogo della soddisfazione, per non parlare della felicità, del singolo soggetto umano, del singolo individuo. La nostra società di classe, in altri termini, non è altro che asservita al principio della prestazione, vale a dire, è asservita la direttiva di impiegare tutte le energie psicofisiche disponibili nell'individuo e dell'individuo ai soli scopi, alle sole finalità lavorative e produttive. Per cui di tutte le varie dimensioni umane sono state negate, represse, eliminate tutte le dimensioni relative al gioco, alla socialità, alla creatività, allo svago, al divertimento, alla ricerca del piacere. Il corpo umano è stato addirittura diserotizzato, dice Merchius, e si è instaurato una sorta di tirannide genitale, ovvero la sfera sessuale è stata repressa e ridotta al solo fatto genitale e protreativo. Quindi la società borghese non ha fatto altro che ridurre l'essere umano ad una sola dimensione, sia solo quella lavorativa, solo quella produttiva, sacrificando e cancellando tutte le altre dimensioni proprie della persona umana. Dice Merchius che anche, diciamo, la sorta di liberazione, in qualche modo sessuale, lo sdoganamento dell'erotismo, ad esempio, della pornografia, non sono altro che masteramenti, menzogne, infingimenti, dispositivi messi in atto da questa società alienante, da questa società ad una sola dimensione, al fine di tenere buono, ecco, tenere buono al proprio posto, nel proprio ruolo produttivo, come sporadiche valvole di sfogo, l'essere umano che deve soltanto produrre. Dunque la società attuale è caratterizzata da un individuo alienato, vale a dire dall'uomo ad una sola dimensione, ovvero la ragione si è identificata con la realtà e allora il singolo individuo, il singolo soggetto umano non è più capace di storgere una differenza tra ciò che è e ciò che deve essere, per cui al di fuori del sistema in cui vive non ci sono, non esistono, non sono possibili altri modi di esistere, altri orizzonti vitali. E allora, secondo Marcuse, la società industriale ha introdotto una sorta di tolleranza repressiva perché il suo permissivismo funziona soltanto a proposito di ciò che non mette in questione lo stesso sistema. Tuttavia, secondo Marcuse, c'è una speranza, ovvero al fondo di questa riflessione amara, critica nei confronti della società moderna, della società di classe, della società borghese, emerge una possibilità, perché la società tecnologica non riesce comunque, pur provandoci, non riesce ad imbavagliare, a risolvere, a nascondere tutti i problemi. A cominciare dalla contraddizione di fondo che la costituisce, e cioè quella tra il potenziale possesso dei mezzi atti a soddisfare i bisogni umani e l'indirizzo conservatore di una politica che nega ad alcuni gruppi l'appagamento dei bisogni primari e sordisce il resto della popolazione con l'esaudimento di bisogni fittizi. Ora, secondo Marcuse, dunque, vi è una stiera di emarginati, di reietti, di esclusi, di marginali, di miseri, i quali, proprio per la loro particolare posizione sociale, potrebbero incarnare il grande rifiuto, una espressione simbolica che indica, che connota, che caratterizza l'opposizione totale al sistema vigente, l'opposizione all'attuale società di classe, l'opposizione all'attuale società alienata ed alienante, e per porre le basi per la traduzione dell'utopia nella realtà. E questo era Marcuse. Alla prossima! Grazie! Grazie!